Bisturi! 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 Stronzolo! Stronzolo! Stronzolo tu! Stronzolo tu! Oh, il professor Russell! Il famoso professor Russell! Nel tocco di professore! Oh, vai! Signor Colonello! Ci riportecci, tua! Che culo, eh? Svogliati, tirati giù tu! E che è quella bestia lì? Non lo posso dire, mi vergogno! Questo non è un culo, questa è una mongolfiera! Guarda bello! Oh, San Giovanni del Trembino! Chi è papà? 24 centimetri e 7! Ma allora, questi cazzi di nani come fanno, dico io? Addirittura 29! Forse sarà la legge di compensazione! Basta per altezza, il prodotto si allunga! Basta! I don't need you to fix my head! I don't need you to fix my head! I don't need you to fix my head! Geloso io! Il professor Russell! Mi fa scombiscere, mi fai! Ma tu lo sai che è il professor Russell? Il professor Russell è una donna! Un pezzo di figli di ragazze che ha due lauree! Sai come mi chiama a me? Coglionello! Coglionello! Queste sono le merenziere siciliene che hanno un diametro di 8 centimetri e una lunghezza di 47! Beate loro! Mentre poi ci sono le merenziere pugliesi che sono un po' più piccole ma buone però che sono molto piccole di diametro come il pene! Oh, come sono incitata! No! Io sono arrabbato come un lungo giapponese! Attento! Madonna! Non vedo più niente! Spogliati! Io non ti guardo! Io mi spoglio! Però poi non dica che è colpa mia eh! Cosa credi? Che io non abbia mai visto dei bambini nudi? Eh? Così? No! È per questo che io sto pensando a un certo tipo di trapianto! Notteggiorno ci penso io! Scambiando l'organo di Vazzangol con l'organo mio! Ovviamente mi troverò di fronte a delle difficoltà nei vasi sanguigni però... Areste sia suore! Areste sì! Guarda qua! Come? Adrua! Adrua! Eh? Oh! 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 Facciamo tutto lento, lentamente! Si! Oh! Oh! Grazie a tutti.